La realtà sanitaria sta vivendo un fallimento strutturale che lascia i medici e gli altri operatori sanitari da soli a far fronte a una situazione che non hanno contribuito a creare e questo dopo 20 anni di appelli inascoltati per la preannunciata carenza di medici e infermieri. In una dichiarazione congiunta, gli ordini dei medici chirurghi e odontoiatri del Veneto criticano la delibera regionale che prevede l'assunzione e la formazione di 500 neolaureati per far fronte alla mancanza di medici da inserire nei pronto soccorso e nell'internistica. Le pubblicità non sono solo per l'assunzione quanto per la formazione. La delibera ferragostana, sempre un periodo pericoloso in Italia, prevederebbe una formazione in una struttura diciamo scolastica, formativa della Regione Veneto, con un corso in formazione di 92 ore. Quello che ci lascia perplessi, e non siamo gli unici nel senso che ho avuto la fortuna di sentire il magnifico rettore eletto, il professor Pierfrancesco Nocini, il quale anche lui come noi era all'oscuro di questa delibera. Una delibera che bypassa l'università, che da che mondo è mondo, è deputata alla formazione dei medici, alla specializzazione dei medici. Quindi l'università non sarebbe interessata, e già questo ci pare un grosso bias, non sappiamo chi formi questi specialisti, e poi questi specialisti che cosa rappresentano rispetto agli altri specialisti, cioè a quelli che attualmente vengono formati nelle scuole di specialità del nostro policlinico, dell'azienda ospedaliera universitaria integrata, che si fanno 4-5 anni di impegno teorico, pratico. In Italia su circa 11.000 laureati all'anno, 2.000 non entrano nelle scuole di specialità e rischiano di andare all'estero. Attualmente anche in provincia di Verona le sale chirurgiche sono utilizzate meno del necessario, per mancanza in particolare di anestesisti. La possibilità di immettere figure poco professionalizzate potrebbe far diminuire i livelli di cura. Sono circa 15 anni che la Federazione Nazionale e gli ordini provinciali dicono che verso il 2020 si sarebbe avuto l'emergenza sanitaria, con la gobba pensionistica dei baby boomers, quelli che sono stati assunti a metà degli anni Ottanta come sottoscritto, e che nel giro di pochi anni andranno in pensione. Quindi è un'emergenza preannunciata e nota da tempo. Noi vediamo da tempo come l'unica soluzione quella di aumentare notevolmente il numero delle borse di studio.